Ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video, oggi ragazzi siamo qui tornati per fare un video riguardante le storie del calcio ragazzi, ormai siamo al quinto episodio di questa serie ragazzi, spero vi piaccia, siamo tornati finalmente qua con un nuovissimo video, domani mattina ragazzi il video pronostico delle partite di serie A, ragazzi partiamo subito con una storia del calcio. Voglio parlare un po' di ragazzi di una persona che sicuramente voi non conoscete, voi giovani di adesso, ma anch'io sono giovane ma ovviamente non sono andato a documentarmi su questa storia. Parliamo oggi di Enrico Cucchi ragazzi, Enrico Cucchi adesso ve lo andiamo a dire, Enrico Cucchi è una delle scomparse misteriose avvenute nel mondo del calcio e ormai ha più di un ventennio, essendo avvenuto il 4 marzo 1996, quindi da poco ragazzi, quasi da veramente da poco, 20 anni, 22 anni fa. Il suo calvario comincia a Bari, in seguito all'operazione ad un neo della coscia, che portò alla successiva metastasi nel 1994, l'ultima stagione agonistica gelogata nelle file del Ravenna, di cui l'operazione chirurgica non rimane traccia, insabbiata per la solita logica della speculazione mercantile sulla pelle dei calciatori. L'idea della vittima sacrificata al mondo del pallone viene alla giovane vedova Sabrina, che informa il giudice Guarinello sull'eventualità che suo marito non fosse stato tutelato a dovere da un punto di vista medico nelle società in cui ha militato. Ipotesi che il padre di Cucchi, Piero, non conferma e ne smentisce, chiuso ancora nel suo dotore di genitore e a primo allunatore di Enrico. Solo quello resta, oltre al grande dubbio, di una vicenda sepolta nel silenzio, che è stato il preludio alla fine di un ragazzo di 30 anni. Nasce a Savona il 2 giugno 1965. Inizia a giocare a calcio non appena riesce a reggersi in piedi. Il calcio è di casa, Papa Pierino è stato prima calciatore ed ora allenatore. E' orgoglioso di questo suo ragazzo, che promette di far meglio anche di lui. Una lunga carriera tra Savona, Lazio, Varese, Ternana e Arezzo. Li insegna a lavorare sodo, a soffrire, a condurre una vita sana. Se le portava assieme di buon mattino, per lunghe corse e riva al mare, a respirare aria buona. E poi, di pomeriggio al campo di Leggino, padre e figlio, in allenamento corrono sempre più di tutti. Nel frattempo Enrico non trascura gli studi. Frequenta l'istituto per geometri e si diploma prima di lasciare Savona, per affrontare alla grande la professione di calciatore. Piero Cucchi protegge il ragazzino. Non vuole che Enrico si bruci e, di fatti, prima di farlo esordire nel Savona in C2, ci pensa a lungo. Lo porta in panchina. Al massimo gli fa disputare gli ultimi minuti. Al risultato ormai è acquisito. Ma Enrico, come il padre, ha il calcio nel sangue. Tenerlo a freno è impossibile. E così, dopo un paio di stagioni, in C2 con il Savona, ecco l'inevitabile balzo in Serie A. Finalmente, le grandi soddisfazioni, dopo tanto, correre sulla spiaggia. Arriva all'Inter, nel 1982, a 17 anni. Doveva finire alla Sampdoria, ma Beltrami fa pressioni su Cucchi e Signor. Erano stati giocatori assieme. Per portarlo all'Inter, però a Milano, gli spazi lì al centrocampo sono sbarrati. E per quattro stagioni si accontenta di guardare da fuori. Perché i ragazzi, comunque, stare in una squadra sempre forte, a lui non interessa. Certo, gli piace giocare, però ovviamente voleva restare all'Inter. Arriva il suo turno, ad Ascoli, nel gennaio del 1985. Mandato in campo da Castaglier. La più grande serata della sua vita passò però il 10 aprile di quell'anno, quando in Coppa UEFA, contro il Real, trascina i nerazzurri alla vittoria. Ormai uno che conta, e a settembre arrivò anche la convocazione nell'Under 21. In campo il suo gioco è fatto di ordine e disciplina. Aguizzi di talento e grinta da vendere. I piedi sono buoni, magari non eccezionali, ma hanno dentro la potenza della dinamite pura. Quella che esploda l'improvviso e provoca danni nelle difese avversarie. Nella stagione successiva è imprestabilmente in prima squadra, disputando 22 partite in campionato e segnando una rete contro il Lecce. Dopo un anno in presidio dall'Inter all'Empoli, ne ho promosso in Serie A, ad una stagione alla Fiorentina dove gioca apprezzatissimo con Roberto Baggio e Borgonovi, mister Trapattoni lo rivuole in nerazzurro, dove diventa una pedina fondamentale della squadra milanese, che partecipa alla Coppa dei Campioni. Preciso come un suo contrasto, arriva inesorabile il momento della sua seconda fuga da San Siro, con viaggio verso sud. Va al Bari, allenato da Salve Emeine, stagione 1990-1992, e deve subito farsi operare alla coscia per via di un neo. Un punto nero che è cresciuto nel tempo e ha richiesto l'incisione al policlinico del capoluogo pugliese, per evitare che si trasformi in qualcosa di più grave, maleficio che puntualmente invece poi si verificherà. Enrico torna in campo, perché è uno che non si lamenta mai, e per lui il calcio è tutto, insieme allo studio. Campo e studio con ore passate sopra i codici di giurisprudenza, perché sogna di fare l'avvocato o magari il procuratore in difesa dei diritti dei colleghi. Quei diritti che, come aveva toccato con mano, si potevano eludere così facilmente. E' iscritto all'Università di Bari e gli mancano quattro esami per la laurea. Un giorno, stagione 1993-1994 a Ravenna, il dolore agli aduttori si fa fortissimo. E' pieno di linfonodi, di ghiandole maligne. Viene operato a Milano alla clinica di Santa Rita. E poi comincia la chemioterapia per evitare quella metastica che invece non gli danno tregua. Papà Pietro, quando sa che non c'è più niente da fare, abbandona il lavoro, la sua panchina di potenza per stare vicino ad Enrico. che tentava la sua ultima difesa della centrocampista. Il 4 marzo del 1996, la sua ultima partita. Con la vita si interrompe e a ricordare le lacrime è il suo amico Beppe Bergomi. Enrico era uno a cui non si poteva non voler bene. Ho in mente la partita meravigliosa che giocò contro la Samp, facendoci venire vincere la Supercoppa italiana nell'89-90. Mi piace ricordarlo così, in campo da vincente. Di Enrico restano i ricordi e un'associazione che porta il suo nome. Enrico Cucchi, volontari per le cure palliative. Quindi ragazzi, questa era la storia di Enrico Cucchi, in passato, ricordiamo ragazzi, alla Frentina, all'Inter, al Bari e all'Empoli. Ragazzi, veramente una storia che ha commosso molte, molte generazioni del calcio. Perché comunque, quando... E la cosa che più mi ha impressionato nel leggere questa storia è che per lui lo studio era molto importante. Ed è una cosa che purtroppo nei calciatori oggi non esiste più. Quindi ragazzi, io vi lascio così con questo mio discorso. Vedete ragazzi, purtroppo ormai i calciatori quando entrano in campo fanno sempre il segno della croce. Il segno della croce ma non è vero perché negli spogliatori stanno sempre a bestimmiare. Ed è una cosa non bella. E purtroppo ragazzi, è così. Invece, secondo me, è il simbolo della forza di questo calciatore, Enrico Cucchi. Ciao ragazzi.